Musica Si presenta presso il Teatro Santa Teresa dei Colli a Minei la rassegna teatrale RIS Arte ai Colli la direzione artistica è di Diego Macario, Luca Lupoli, Olga De Maio Siamo qui presso il Teatro Santa Teresa dei Colli a Minei per la presentazione della rassegna teatrale RIS Arte e sono qui in compagnia proprio dei direttori artistici, siete in tre, vi siete triplicati famosissimi loro sono Diego Macario, Olga De Maio e Luca Lupoli Ragazzi una nuova avventura, devo dire un progetto ambizioso fatto di prosa, di musica ma il vostro sorriso veramente dà tantissima fiducia, Diego? Allora questa è una rassegna devo dire la verità dei numeri, numeri particolari parliamo del tre, siamo in tre, numero tredici, tredici spettacoli oggi è vero che si è giunto il quattordici però siamo partiti con un bel numero tredici che porta fortuna innanzitutto io volevo presentare l'associazione Noi per Napoli del tenore Luca Lupoli e il soprano Olga De Maio che sono artisti del San Carlo nonché i presidenti dell'associazione al quale io devo ringraziare che mi hanno chiesto una collaborazione in qualità di direzione artistica per poter portare avanti questo progetto particolare e sicuramente... Vogliamo chiedere a Olga di cosa si tratta? Perché questo progetto? Allora il progetto è ambizioso come dicevi prima perché veramente era nel nostro desiderio pensare all'arte a 360 gradi e quindi con Luca abbiamo pensato insomma di fare sia di pensare sia la parte dello spettacolo sia la parte della recitazione, del canto, del ballo così come della pittura avete visto qua poi vedrete varie opere esposte e anche il concorso e abbiamo affidato la direzione artistica insieme a noi a Diego Un grande attore Un nostro pilastro, un nostro amico e un bravo attore E alle vostre voci invece lasciamo ovviamente la musica Luca, anche un po' per valorizzare i Colli Aminei, questo territorio? Certo, sì, diciamo che principalmente lo scopo di questa manifestazione a cui è stato chiesto anche il patrocinio della terza municipalità e del comune di Napoli è proprio quello di dare un'impronta culturale al quartiere e di risonanza, di riflesso a tutta la città quindi diciamo noi vogliamo fare da cassa di risonanza per dare un messaggio positivo insomma Sicuramente di cultura Di cultura e anche di divertimento, di intrattenimento e soprattutto ecco insomma essere portatori di un messaggio positivo della città e non solo della cultura negativa che purtroppo ci circonda Sono portatori dei nostri anche conterranei che sono fuori hanno voluto diffondere e voluto propagare Allora venite, 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 vi aspettiamo tutti Diamo un'anticipazione magari dei primi spettacoli Diego Si saranno tanti spettacoli, ripeto, prosa, danza, musica e cabaret è una cosa particolare Volevo innanzitutto ringraziare anche e soprattutto la terza municipalità del comune di Napoli che ci ha concesso il patrocinio per poter fare questo evento Grazie a loro che sono sempre attenti appunto alla rivalorizzazione del territorio per quanto riguarda gli aspetti artistici e culturali Ragazzi da parte nostra in bocca al lupo per questa nuova avventura Facciamo così, crepi! Vai ragazzi, forza!